Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi parleremo di un nuovo filato. Tessiland ha ascoltato tutte le vostre richieste e, visto il successo del filato Allen, ha deciso di presentarne una nuova versione che si chiamerà Allen Cot. Andiamo a scoprirlo! Eccolo qui il nostro Allen Cot, un gomitolo in morbida pelliccia sfumata e cotone. La sua composizione è al 38% di poliamide, 50% cotone, 12% poliestere. Il suo peso è di 100 grammi per una lunghezza di 120 metri all'incirca. I ferri consigliati sono quelli dal 6 al 7, mentre gli uncinetti dal 5,5 al 6,5. Passiamo ora alle istruzioni per il lavaggio. Vi ricordiamo di lavare a mano, non superando una temperatura pari a 30 gradi, non stirare e non utilizzare l'asciugatrice. Non candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta per il tetracolore etilene. Nel momento in cui asciugherete i capi realizzati con questo filato consigliamo di apporli su un piano orizzontale. Vediamo ora tutti i colori disponibili. Quello che abbiamo visto finora è il fucsia, colore petrolio, il senape, questo è il color acido, il menta ed infine due colori basici, il bianco e per ultimo il nero. Abbiamo quindi scoperto l'ultimo arrivato in casa Allen, un filato che mescola il cotone alla morbidezza della pelliccia. Siamo sicuri che questa caratteristica lo farà diventare uno dei filati must della stagione invernale. Vi ricordiamo infatti che con questo filato sarà possibile non solo creare dei capi caldi e comodi, magari per stare in casa, ma anche dei comodi maglioncini da sfruttare, perché no, anche in ufficio o al lavoro. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo Tessilan News, ma prima vi ricordo di cliccare mi piace, attivare la campanella e iscrivervi al nostro canale youtube. Inoltre vi ricordo di seguirci sul nostro profilo facebook, meglio di maya, su tik tok, su instagram e sul nostro blog. Al prossimo Tessilan News! Ciao! 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 Ciao!